ciao a tutti buonasera come state questa sera volevo un po sistemare diciamo graphics interface esatto volevo sistemare un attimino la pagina per migliorarla un pochino e e poi volevo iniziare ad usare praticamente come si chiama non ricordo mai e file store database andiamo allora installare material quindi andiamo nel nostro browser material punto angula punto io andiamo a vedere get started e qui ci dice come installare material quindi andiamo a prendere il nostro bel angi ad diamo metterlo nel nostro fido visual studio code il terminale e andiamo installare material nel frattempo che aspettiamo andiamo a vedere cosa ci dicono allora per farlo funzionare angola dimension vabbè andiamo giù qui ci chiede il tema di default non andremo a farne uno custom scegliamo quello di default l'indigo pink setup global è sì così include and enable animations così abbiamo che l'animazione fa tutto quanto lui per noi come vedete ha aggiornato il package json ha aggiornato l'app config angular json index style in index se non ricordo male ha aggiunto i font vedete questo qui dovrebbe averlo aggiunto lui non mi ricordo se ha aggiunto anche il robot però poco importa diciamo che ha modificato l'index html ha aggiornato l'angola json e qui vi faccio vedere il perché se vado qui quello che lui ha modificato è lo stile eccolo qui quello che abbiamo scelto prima ha messo lo stile predefinito indigo pink prendendolo direttamente ed angular material quindi questa è la modificata qua negli size ha aggiunto se non ricordo male il nel body i fonti di default però possiamo andarlo a vedere andiamo a vederlo qui si ha aggiunto praticamente il font quindi ha messo il suo il robot dell'elvetica new e come alternativa a tutto quanto il nostro nostra pagina e infine sull'index ha aggiunto appunto quello che diceva vedete ha aggiunto sia il robot sia il material icon quindi e poi questa classe per fare la tipografia nel package json ha aggiunto il sedi che il material non ha aggiunto nient'altro e basta qui quello che dicevo prima quindi queste sono le modifiche andiamo a lanciarlo subito così andiamo subito a creare ecco qua infatti già la grafica un po un po cambiata no allora qui dobbiamo fare tre pagine quindi una di sign up una di sign in come lo facciamo facciamo così vediamo se sono nel punto giusto si ngg si sign in meno meno skip test dopodiché oltre sign in sign up sign in faremo così adesso creo le pagine poi le aggiungeremo nei routes e infine se avrò bisogno dei componenti li spezzo quindi qui andiamo definire i primi routes quindi definiamo il path e qui andiamo a fare l'importazione in lazy loading ora qui andiamo a importare dove siamo su app routes quindi andiamo su pages sign in e poi sign in component e alla fine andiamo a importarlo anzi facciamo p il punto sign in component infine facciamo anche una cosa che lo rende ancora più carino mettiamo anche la property title mettiamo switch up switch chat trattino sign in poi andiamo a creare la seconda rotta path sign up facciamo la stessa cosa non lo riscrivo così facciamo un bel copia e incolla qui non è sign in ma è sign up poi sign up component e sign up component perfetto quindi sign up e per il momento ci accontentiamo di questo beh no a dire il vero dobbiamo creare una nuova pagina andiamo a creare subito e creeremo la pagina home così abbiamo tre pagine e quella di default sarà la home quindi qui metteremo così poi home home components e home component qui c'è chat senza meno e basta e finire mettiamo un rediret quindi path asterisco asterisco virgola rediret to e facciamo un rediret sul sign in andiamo a lanciare in realtà l'abbiamo già lanciato quindi adesso vedo che non funziona eh sì questa è la home in un component dovrebbe esserci niente perché continua vediamo se io metto home e qua a me sign in ah ok no 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 ok ha fatto rediret sul sign in ed è andato qui sign in tutto quanto di default se qui io mettevo home anzi senza home a questo punto io metto l'errore ok mi riporta qui però non mi fa vedere la pagina andiamo a vedere la console non mi fa vedere niente non mi fa vedere niente perché qui abbiamo messo soltanto questo invece dobbiamo mettere router outlet che l'altra volta non avevamo messo e adesso home works quindi adesso faccio sign in sign in works perfetto se metto sign up dovremmo rivedere il form di prima e infatti andiamo a questo punto il primo form era quello della creazione quindi questo è giusto che sia qui questo era soltanto se sono logato quindi questo possiamo tranquillamente al momento metterlo nella home andiamo a metterlo qua qui cancelliamo non works ovviamente mi dai allora eravamo qui qui bisogna che mi porto a questo punto faccio questo lo portiamo nel nostro home questo lo portiamo qua ad import e poi ci serviva lo user lo user se non ricordo male serviva soltanto qui ovviamente bisogna importare la function eccolo qua vi continuo a ricordare che non usiamo il compat quindi usiamo proprio le nuove funzioni di di Firebase e poi mettiamo il json pipe quindi adesso ha caricato perfetto se vado sulla home è null perché non sono non sono ancora loggato allora andiamo a vedere un attimo la documentazione di material andiamo a vedere la documentazione di material se non ricordo male qui ci dovrebbe essere l'esempio del side nav basic side nav e basic drawer quindi andiamo a importarci questa cosa qui allora questo è il drawer content quindi qui possiamo metterci la side bar e qui invece il contenuto ma vediamo un attimo se c'è qualcos'altro facciamo un bel copia e andiamo a metterlo qua allora non qui ma qui poi andremo a sistemare magari se non non ci piace dobbiamo andare a importare andiamo qui eccolo qua matside nav module e qui lo andiamo a importare qua dentro questo punto l'ha caricato salviamo nel content ci mettiamo router outlet quindi andiamo a mettere questo e andiamo a vedere cosa salta fuori quindi salta fuori così boom io faccio sign in intanto mettiamo il menu magari qua vediamo di metterlo qui non qui ma nell'app perché l'abbiamo messo fuori ok ci importiamo la nostra app e qui chiamiamo main container ok main container siamo qua quindi rimpiazziamo e se non ricordo male avevamo già installato anche tilewind no non l'abbiamo installato finalmente ce l'abbiamo a pieno schermo andiamo andiamo a installarci anche tilewind dai così tilewind css quindi prima installiamo questo questo poi installiamo questo perfetto inizializziamo tilewind css perfetto e infine andiamo a rimpiazzare il nostro content in tilewind ottimo ora lo rilanciamo in teoria non dovrebbe essere cambiato granché infatti non è cambiato neanche anche però adesso sul nostro home e sul nostro app app ti diamo se va absolute top 0 bottom 0 left 0 e right 0 ora se tutto è andato a buon fine e cancellando questo dovremo vedere lo stesso risultato di prima perfetto ottimo quindi adesso abbiamo anche tilewind andiamo qui quindi questo qui è un form di login quindi quello di sign in andiamo qua e rimpiazziamo mettiamo questo andiamo a vedere sign in ho preso l'urlo quello che ho fatto alla prova prima home perché non gli piace c'è un passaggio che ho dimenticato c'è un passaggio che ho dimenticato qui eccolo qua vediamo vediamo perfetto ora però questi form allora intanto togliamo via questo questo acme qua sotto lo togliamo via perché non mettiamo il paragrafo però qui magari potremmo metterci component material component un input andiamo qui e ci magari ci mettiamo i nostri componenti material copio tutto perché così faccio tutto quanto in un blocco solo e lo mettiamo qua mi mancano le facciamo così facciamo prima e di import importiamo l'input e poi il form field ora la nostra non ho salvato e infatti andiamo a vedere perfetto andiamo a rimpiazzarle quindi questo lo commentiamo al momento e andiamo a rimpiazzare questo ovviamente possono convivere bisogna fare attenzione con gli stili perché potreste sovrascrivere degli stili che già esistono quindi qui commentiamo il tutto qui mettiamo il nostro username allora questo lo togliamo andiamo a vedere favorite food das uv in a pool mettiamo un po' ok così lo riempie a pieno non mi piace ora qui ci dovrebbe essere l'appearance fill non mi ricordo se è questo no vediamo no non era l'appeal ma non era appearance eccolo qua float label pulse e always e quindi lo mettiamo diciamo che non mi piace molto l'effetto perché questo è tutto grigio questo rosso un po' cazzotti magari sistemiamo questo qui velve vuoto allora qui your username username anzi your email e qui is insert email andiamo insert email vediamo un po' se ci metto un text sm no questo è della label proviamo a fare una prova un po' brutale mettiamolo qua magari bisogna metterci un po' di margine che ci ha messo un po' di margine sotto questo lo toglierei e ce lo metterei sopra vediamo un po' e sull'input a sto punto proviamo a metterci la classe mettiamo questa vediamo come salta fuori no non è non è proprio il caso perché perché lui ha un input dentro un altro div no quindi salta fuori questo effetto brutto in realtà questo possiamo provare a metterlo non qua dentro ma qua vediamo facciamo una prova no non mi piace perché lui allora ma allora no non mi piace quindi togliamo via il class togliamo via il class vediamo un attimo chi è che prende questo grigio non mi piace il grigio non mi piace il grigio questo qui ci deve essere una variabile che va a definire il grigio vediamo se c'è scritto qui dovrebbe esserci scritto da qualche parte sample no overview no vediamo un attimo material da doc dovrebbe avere delle props da sovrascrivere sì e infatti dovrebbe proprio averle però bisogna andarle a trovare che dovrebbe esserci nella documentazione ma faccio prima beccarla mi sa così dovrebbe essere qui vediamo background color vediamo un po' eccolo qua eccolo mannaccia eccolo qui ora se io vado a definire questa questa è definita così se io vado nel mio style quindi se metto così di solito stanno la route si vanno così ah proprio route ok allora facciamo come dici tu quindi dentro route così così vediamo eh ma con route non va ah con due punti scusami con due punti ok sì sì ok quindi lo mettiamo white quindi salta fuori bianco e quando c'è l'over però eh rigetto andiamo a vedere un attimino quando c'è l'over quindi dovremmo essere qui che è questo quindi sovrascrive di background call no quindi se faccio l'over e faccio l'over che ha aggiunto una classe nuova no e l'ha aggiunto background call è rimasto sempre lo stesso vediamo un attimo attimo via l'over quindi ritorniamo nel nostro sign in facciamo così allora qua mettiamo password qui mettiamo type password quindi please insert your password qui abbiamo il bottone e matt flat button ovviamente non ci sarà da importare quindi lo andiamo a importare ovviamente non mi ricordo però dovrebbe essere molto semplice è scritto mar ciao ma ciao ciao vediamo un po' ovviamente la classe di tailwind è andata il paese le tasse potrebbero consumizzare anche in mat flat button però non riusciamo a fare quindi qui è mail password andiamo a prendere il nostro sign up qui avevamo il sign in quindi ci prendiamo questo andiamo a importare qua ci serve anche l'out andiamo a importare qua il form group andiamo a importare qua dopodiché lng on init qui andiamo a copiare questo qui togliamo via il sign up ok andiamo a importare un po' il tutto questa roba allora crea utente on sign in e on login con google andiamo a portarle qua dentro e qui importiamo tutto ora se salviamo qui dovrebbe dare un errore esatto perché c'era questo if facciamo così ci prendiamo tutto questa roba andiamo qua lo rimettiamo qui nel commento questo lo cancelliamo via mettiamo questo lo chiediamo qua dopo di che il form ci mettiamo il form group e anche il submit bisogna che importiamo il form group ovviamente non ce l'ho andiamo a importare dov'è 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 eccolo qui ce l'ho già reactive force module ok questo dovrebbe essere posto ah ci manca la login con google quindi qui infine qua che errore ha perfetto dobbiamo toglierlo via e qui nell'on init ce l'abbiamo già perfetto adesso se salviamo il tutto allora nel sign up html eccolo qua ci dobbiamo portare questo ce lo portiamo qui adesso se tutto va bene ora andiamo a fare una cosa prendiamoci tutto il suo stile visto che vogliamo ottenere un certo tipo di coerenza vediamo qui ttn apply quindi tutti quelli anzi facciamo così button tutti i nostri bottoni ok ok perché non abbiamo il focus c'è double light ottimo a questo punto io salvo i pulsanti adesso sono tutti blu però sono tutti quanti blu così quindi adesso il forgot vediamo un po' eccolo qua andiamo a prenderlo adesso io cancello ah perché questo qui è un tag A ok allora lasciamolo così per un momento lasciamo il pulsante di quanti blu allora nel sign in type submit e quando andiamo a fare il sign in eccolo qua quindi private belli blu ok quale inget router e qui this.router.navigatebyurl ci mettiamo una barra e lo stesso dica se qua quindi prendiamo utente vabbè facciamo login con google avevamo fatto questo ottimo la login funziona da allora vediamo qui va